Meno Iussoli avete preso un po' un granchio, glielo dico con grande franchezza. Ecco, ma che mangia il couscous, centinaio? No, l'apertura questa per i popoli che arrivano dal Maghreb. No, per carità. Ma poi è buono il couscous, per carità. Per carità di Dio. Ma che centinaio è buono il couscous. Ma che schifo. Allora, piuttosto che mangiare il couscous faccio davvero lo sciopero della fame insieme a Del Rio. Ma guarda che il couscous lo fanno anche a Trapani. Io dico sia la polenta o il couscous. Stavo mangiando l'isalata di riso per fattore. La russa, diciamo la verità. Certo, ma io sono lombardo e di conseguenza il couscous non lo mangio. Ma lì mangiano la couturezza della milanese e mi piacciono. Eh, ho capito, il couscous fa schifo, che ti devo dire? Cioè, non è che posso mangiare tutto. Ma è meraviglioso, questo è un incontro etnico tra la russa e il centinaio. Io sono estasiata. Io mangio il vostro lungo e l'arancino. Mi piacciono tutti e due. Posso però dire sul referendum...